Mille maschere al carnevale del Cilindro Il Cilindro è tutto pronto per la terza edizione della manifestazione carnevalesca che punta ad unire il Cilindro nel segno del divertimento e dell'allegria. Intanto i gruppi partecipanti stanno lavorando alla preparazione dei carri e delle coreografie. Come sempre intorno all'appuntamento del carnevale c'è grande attesa anche per la sfida tra i territori che proporranno anche quest'anno i temi più variegati. In anteprima CilentoTime.it vi svela le rappresentazioni carnevalesche che saranno protagoniste dell'edizione 2016 del Carnevale del Cilento. In ordine di apparizione Centola con Epix, Marina di Camerota con Mai Stati Uniti, San Severino di Centola con Sognando l'India, Palinuro con Egitto non è da escludere il ritorno. Le associazioni Marina 3000 ed ESOES Palinuro danno appuntamento a tutti sabato 2 aprile a Palinuro e domenica 3 aprile a Marina di Camerota per la finale. La terza edizione del Carnevale del Cilento rientra per la prima volta nel programma comunale di eventi Viviamo Camerota, giunta alla quarta edizione. L'evento è patrocinato dai comuni di Centola e Camerota, media partner dell'evento Cilento TV Canale 607 del Digitale Terrestre.